Pronto? Sì, pronto. Chi sei? Come che sono? Chi sei tu? Sei tu quello che continua a chiamare la mia ragazza? La tua ragazza? Ah sì, sei tu. Il tuo numero è sul suo telefono. Ha salvato tutte le telefonate che le fa ogni notte. Se faccio ogni notte la tua ragazza... Devi essere sincero con me. Da quanto tempo vi conoscete? Ehi, bello mio. Ti risolvo il problema di balbuzie che hai. Non scherzo. Dove stai? Dove sto io? Sì, dove sei? Che vengo subito, risolviamo la cosa tra di noi. E ti rompo il culo così impari a telefonare alla mia ragazza. Teniti pronti che sto arrivando. E basta con queste cazzate, io ti spacco il culo fra due minuti. Questa cazzata che mi spacchi il culo. Tu ti sbatti per te.